La bar jacket è un elemento iconico della casa, la sua costruzione è molto particolare, si avvicina un'immagine molto scultorea. Questo modello è una veste bar che viene realizzata con un jacquard camouflage composto con diverse tonalità di blu, di blu dior. La caratteristica principale è che ha queste piccole frange. La sfida è stata di mantenere lo shape ma anche combinarlo con materiali inusuali, in questo caso con una tecnica jacquard camouflage che è realmente molto haute couture e che normalmente non si applica a un tipo di print che è così sportivo. Per quanto riguarda il biazzo, abbiamo fatto una palla sul stockman. Quando facciamo la palla, abbiamo fornito a l'anima, per la forma di che la vesti sia ben siluettata sul corpo e si escolle a l'anima. Una volta che abbiamo inizialato, abbiamo preparato un patronaggio in paper, abbiamo fatto il coppia che le coppia, poi poi abbiamo fatto il montaggio. Quando l'interno del bambino abbiamo dei signi obliqui e tutto l'extruttore è il camuflagemo che Il mio punto di vista è stato di innovare questo elemento storico per renderlo contemporaneo allo stile di vita delle donne di oggi. Quindi credo che non vederla associata a una specifica donna o su uno specifico look, ma più che altro come un oggetto che tu desideri per avere un codice Dior.